la mia esperienza lavorativa nasce prettamente a siena quando dopo e dopo aver smesso di giocare il sandro finetti uno degli storici allenatori sienesi soprattutto per quanto riguarda le giovanili del mini basket mi chiede di dare una mano alla virtù siena io avevo giocato nelle giovanili proprio nella società di piazzetta don perucati e quindi praticamente il mio percorso comincia lì percorso che poi si sviluppa dall'essere un passatempo un diversivo un qualcosa in più ad essere un lavoro a tempo fisso fino con sempre più responsabilità sia nei campionati giovanili di eccellenza quando siena era un po l'epicentro diciamo anche del del settore giovanile un riferimento per per il settore squadre nazionali maschili con derby molto seguiti a livello giovanile ed anche finali scudetto alle finali nazionali dove le due società sienesi erano protagoniste con delle forresterie molto amiche i giocatori che adesso giocano tra 1 a 2 serie b questo diciamo questo processo lavorativo mi ha portato poi ad allenare la prima squadra in b1 da molto giovane a 25 anni alla virtù siena e da lì è diventato effettivamente un lavoro a tempo fisso che ha cominciato anche a farmi eh viaggiare a lavorare fuori da da casa mia prima a lucca poi c'è stata la seconda esperienza a siena nella nuova menzana ormai defunta purtroppo dove appunto ho avuto il piacere di di tornare a lavorare a siena di sedermi su quella panchina lì l'onore di sedermi su quella panchina lì e anche il privilegio di poter vincere un campionato che farlo da sienese a siena non è mai cosa banale anzi diciamo che la lista è molto molto corta e vede allenatori e molto più blasonati di me simone pianigiani su tutti e giorgio brinci eccetera eccetera da lì poi purtroppo si è esaurita anche quell'esperienza lavorativa sono andato prima a reggio calabria per un anno di nuovo in serie b e poi è venuta fuori l'opportunità di cento adesso comincio il mio terzo anno in a 2 in una società di tradizione una società molto passionale che però diciamo non è stata abituata per tanti anni a questi livelli e che quindi si sta strutturando sempre di più come società professionale a tutto tondo ecco c'è tra una società che diciamo ha cambiato presidenza 5 6 anni fa con l'ingresso di del dottor gianni fava eh che ha posto subito l'articella degli obiettivi più in alto rispetto al passato cercando subito di vincere il campionato di serie b questo è successo eh cento poi ha partecipato alla due a dire il vero per la prima volta quattro stagioni fa dove retrocessa immediatamente siamo ripartiti eh quando sono arrivato io il primo anno e l'anno scorso riabbiamo partecipato per la seconda volta al campionato di a due la prima volta con me e eh diciamo che dovevamo fare un'annata di lacrime e sangue l'obiettivo era palesemente salvarsi ehm all'ultima giornata potendo evitare play out se se lavoravamo bene ma insomma diciamo che era un nuovo tipo di percorso con anche dei giocatori esordienti per la categoria o giocatori che avevano sempre avuto dei ruoli molto marginali il campionato è andato al di sopra delle aspettative infatti nonostante gli infortuni i nostri play off sono sfumati veramente all'ultima giornata della seconda fase della fase d'orologio e questo ha fatto sì diciamo in un periodo anche molto strano come dicevi giustamente tu prima cioè in un periodo di covid dove l'anno scorso eh non ci sono stati spettatori al palazzetto dove l'anno scorso ehm diciamo anche l'organizzazione settimanale del campionato è stata una novità una cosa mai vista prima per noi il campionato è iniziato il 6 di dicembre quindi una preparazione lunghissima e poi partite molto molto concentrate arrivando a giocare anche sette partite in tre settimane cosa che può essere normale per le squadre che fanno le coppe ma assolutamente anomala per una società ed una squadra di a due però questo ha fatto sì di eh suscitare ancora di più entusiasmo e quindi la società quest'anno è ripartita di grande slancio eh attrezzandosi per disputare un'annata che ci permetta di sicuramente consolidare il risultato dell'anno scorso e sperare anche di poter diciamo così acciuffare playoff cosa che ci è sfumata veramente all'ultimo la scorsa stagione. A Siena lascio 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 tutto lascio la la famiglia lascio gli amici lascio la contrada lascio tutte le persone che mi conoscono non è facile purtroppo eh per dieci mesi su dodici all'anno stare lontano dalla tua città eh non è facile vedere solamente di sfuggita i propri familiari i propri genitori eh oppure semplicemente gli amici a cui sei più legato però realmente purtroppo per fare questo lavoro devi essere nomade nel senso che devi essere sempre pronto ad andare dove c'è bisogno a spostarti a conoscere città nuove a conoscere persone nuove a confrontarti con persone nuove oggi purtroppo più che mai dato che comunque sia in questo momento diciamo che è oggettivamente difficile visto la realtà eh del basket senese non parlo del del livello e delle competenze parlo proprio del fatto che oggettivamente fare professionista in questo momento storico a Siena è è oggettivamente difficile ma al di là di quello questo è comunque un lavoro che prima o poi ti porta a a doverti lasciare alle spalle le situazioni di comfort ti porta a doverti lasciare alle spalle eh le proprie abitudini ti porta a doverti lasciare alle spalle eh le persone che sono legate a te perché per farlo bene e con passione e con competenza devi devi metterti in gioco devi viaggiare devi vedere cose nuove ecco la palestra di vita della delle scuole basket senesi è comunque sia un bagaglio molto molto importante nel senso che eh prima con le giovanili e poi con le prime squadre quello che contraddistingueva eh principalmente diciamo le società senesi e poi l'ultimo gli ultimi anni della menzana in particolare era proprio all'organizzazione extra campo quindi il come fare bene questo lavoro il tempo da passare in ufficio il cercare sempre di eh mettersi in gioco di di fare un extra sforzo di di imporsi un'auto di essere auto esigente cosa che alla fine anche se porta via tempo porta via ovviamente energie porta via anche eh un bel pezzo di vita privata però ti consente di fare poi miglioramenti sia da allenatore e poi di conseguenza attraverso il lavoro che fai sul campo per la squadra per raggiungere quegli obiettivi alzando sempre un pochino l'asticella ecco sicuramente se c'è una caratteristica eh lavorativa che mi porta dietro quando cambio società o comunque sia quando lavoro eh fuori dalla mia città quindi ormai da diversi anni è eh diciamo il fatto che passatemi il suo termine bisogna stare sempre sul pezzo cioè lo sforzo mentale lo sforzo eh a livello di tutto eh di tutti i dettagli organizzativo tecnico di programmazione deve essere sempre messo al primo posto perché solamente attraverso i dettagli riesce a fare la differenza tanto è vero che più le società e oggi giorno più che mai con il periodo purtroppo che stiamo vivendo sono ben strutturate e organizzate più la squadra è messa nelle condizioni possibili migliori possibili di pensare solamente al campo e quindi di poter concentrarsi solo esclusivamente sul gioco e sulla pallacanesti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti